Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 guidare con prudenza per la pioggia segnalata tra chiusi Chianciano e Ceprano. Per quanto riguarda i lavori della terza corsia dell'A1 a Bagnarripoli, il cavalcavia di Via Romanelli resterà chiuso al traffico da domani fino al 26 ottobre in orario 9.16. Sul raccordo Siena-Firenze scambi di carreggiata per lavori tra i chilometri 39.400 e 37.500 e tra i chilometri 37.500 e 35.300 entrambi tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!